Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questa mantellina barra mini poncho che ha una lavorazione in costa e fa queste magnifiche coste proprio in rilievo che sembrano addirittura lavorate i ferri sono fantastiche e per di più è un modello di mantellina veramente semplicissimo da realizzare, infatti il video è molto molto breve proprio perché è semplicissimo il processo ed è bellissimo perché si allarga qui e si stringe formando il collo in un modo che adesso andremo a vedere come si fa ed è veramente 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 facile e anche per chi ha le prime armi può già fare una mantellina di questo genere che è molto molto bella, poi in base alle vostre esigenze potete deciderlo se renderlo una specie di poncho e quindi unirlo assieme a maglia bassissima e infilarlo dalla testa magari lasciando aperto solo il collo, di chiuderlo con un bottone in cima e poi sempre qui con le maglie con unirlo a maglia bassissima oppure farlo come l'ho fatto io che gli ho fatto un legaccio, questo diciamo è il modello che lo rende più una mantella invece che un poncho però è molto versatile e potete chiuderlo come più vi piace, quindi questo è il risultato, io sono veramente soddisfatta, spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, io vi mando un bacione enorme e vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa mantellina in lana è, io utilizzo questo tipo di lana che è la prima volta che la lavoro ma mi piaceva molto perché aveva la me assieme e volevo farla una mantellina un po' da sera diciamo, quindi uso questa lana lana la me, sono gomitolini da 40 grammi e vado a lavorarlo con un genetto numero 4 e io ne ho comprati due pacchi da 10 gomitoli, alla fine del tutorial vi dirò quanto ne ho realmente utilizzato, comunque penso ce ne voglio abbastanza ecco, vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it allora questa mantellina è molto semplice perché andremo a fare due diverse righe che poi andremo a ripetere per tutta la lavorazione, è una mantella che si sviluppa in un rettangolo che poi andremo a cucire assieme, diciamo dal collo alla schiena, realizzando così appunto la nostra mantellina, quindi è anche molto semplice regolarsi per la misura perché ve la provate addosso mentre la state facendo e sapete esattamente quanto il rettangolo deve ancora essere lungo per poi chiudersi assieme o comunque prendete la circonferenza spalle, il giro spalle di una persona e sapete esattamente quanto deve essere lungo il vostro rettangolo, quindi per iniziare dobbiamo avviare 86 catenelle che come potete vedere io le ho già messe e questa è l'altezza della nostra mantella, quindi diciamo dal collo fino a dove io voglio che questa arrivi perché adesso noi lavoreremo invece in lunghezza, quindi 86 catenelle è la misura appunto che io ho deciso di utilizzare, salto la prima catenella, mi inserisco nella seconda e inizio subito a lavorare 24 maglie bassissime, tutta la lavorazione verrà effettuata in costa, quindi inizio a lavorare le mie 24 maglie bassissime. dopo aver realizzato le prime 24 maglie bassissime dobbiamo andare a lavorare 10 maglie basse, quindi una... una volta fatte le nostre maglie basse, le nostre 10 maglie basse, adesso le restanti maglie dobbiamo andarle a lavorare a maglia alta, quindi... quindi... così a maglia alta fino alla fine del giro. terminato il giro facciamo due catenelle e voltiamo il lavoro perché adesso dobbiamo andare a lavorare dall'altra parte, come? Esattamente ripetendo lo stesso motivo di prima, ma al contrario, quindi prima siamo partiti con le maglie bassissime, adesso invece qua ci ritroviamo col giro da sotto di maglie alte e dobbiamo fare tante maglie alte quanto nel giro precedente, poi faremo di nuovo le nostre 10 maglie basse e di nuovo le nostre maglie bassissime al fondo, quindi andiamo semplicemente a lavorare le stesse maglie che ci troviamo adesso di fronte nella riga precedente, ricordandoci che, anche se non lo dirò più, tutta la lavorazione si svolge in costa, quindi tutte le maglie che andiamo a fare si devono lavorare in costa e adesso parto lavorando le mie maglie alte. Grazie. 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 In costa, per chi non lo sapesse, vuol dire che vado a lavorare solo delle due asoline che ci sono qua, solo quella di dietro. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, ho terminato di lavorare la mia serie di maglie alte, quindi adesso andrò a lavorare le mie 10 maglie basse sempre in costa. Ecco, ho terminato anche questo giro, la storia praticamente si ripete. Adesso faremo una catenella per girare, volteremo il lavoro e adesso ci troveremo di fronte prima le maglie bassissime, poi le maglie basse, poi le maglie alte, quindi dobbiamo andarle a lavorare esattamente nella sequenza in cui ce le troviamo sotto, quindi 24 maglie bassissime, 10 maglie basse e le restanti maglie alte. Giriamo di nuovo, partiamo con le maglie alte, le 10 basse e le 24 bassissime, sempre in costa e proseguiamo così per tutta la lunghezza del nostro scialle, quindi formeremo un rettangolo che deve girarci attorno a tutto il corpo. Ecco, qui dove ci sono le maglie bassissime sarà il collo e qui dove ci sono le maglie alte la parte finale. Guardate qua, ho realizzato 145 giri in totale e ho terminato la mia mantella. Lo sto facendo per una taglia abbastanza grossa, quindi una 48, quindi non so voi, in base poi alla misura che dovete farla, magari vi servono meno giri di quanti ne sono in realtà occorsi a me, appunto perché lo sto facendo per una persona di taglia 48. Quindi questo è quanto, vedete che fa la lavorazione in costa, che è bellissima, sembra quasi una lavorazione fatta ai ferri e poi qui dove c'era la maglia bassa e la maglia bassissima va stringendosi e curva nel collo, allargandosi invece sotto dove poi prende le spalle, quindi questo è quanto. Adesso non ci resta che trovare un modo per chiuderla, ovvero possiamo fargli dei legacci all'uncinetto, possiamo unirla assieme con la maglia bassissima e magari lasciargli solo la parte del collo vuota in modo che si infili dalla testa, possiamo fargli una sola volante e attaccarci un bottone, possiamo chiuderla come più ci piace. Io adesso andrò, credo che andrò a fargli i legacci in modo che poi leghi, faccio una sorta di catenella con delle maglie basse e vado a formare un legaccio, però appunto in base alla vostra esigenza e ai vostri gusti potete farla chiudere come più vi piace. Questo però è il risultato, a me soddisfa veramente tantissimo, non so se riuscite a vederla tutta, guardate, questo è il collo, su in alto vedete che si stringe mentre in basso si allarga e fa una ruota, vedete in questo modo. Mi sono occorsi 13 gomitoli di lana, questi gomitoli erano da 40 grammi, quindi un po' poco e ne ho utilizzati 13 e questo è il risultato finale. In più adesso se per chi vuole arricchirla ulteriormente potete andarla a decorare nello scollo con eventuali decorazioni perboliche o quant'altro, dei fiori, tutto quello che la fantasia vi suggerisce. È una mantella molto ricca, io spero che appunto vi piaccia, è un modellino molto molto semplice perché alla fine sono maglie alte, basse, bassissime in costa che si ripetono per tutta la lunghezza della mantella, ma tutta la larghezza della mantella scusatemi, però è l'effetto veramente stupefacente. Io spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!